Benvenuti a chi è presente qui, pochi coraggiosi, e a chi è a casa. L'obiettivo di oggi è quello di iniziare a vedere le caratteristiche base di Java. Vi ho pubblicato online una lezione preliminare con alcune caratteristiche di base. L'obiettivo oggi è quello di vedere con un approccio un po' più pratico rispetto alla lezione che era sequenziale, molto veloce, utilizzando anche Eclipse. Così ne approfittiamo e cerchiamo di capire come possiamo utilizzare Eclipse e come potrete utilizzare Eclipse. Chi è a casa ha il PC davanti e quindi vi invito a utilizzare Eclipse. Eclipse, probabilmente non è banale, nel senso che dovreste avere due finestre, o meglio, se avete due monitor, riuscite a farlo agevolmente, altrimenti è un po' più complicato. Se siete qui, avete il PC, prendetelo, così facciamo le cose tutti assieme. Soprattutto iniziamo e se ci sono problemi specifici, allora se avete problemi di installazione non riesco a risolverli ora durante la lezione. Però se qualcosa non vi è chiaro, qualche passaggio non è evidente, ne approfittiamo e cerchiamo di risolverlo perché è probabile che siano problemi comuni a tanti. Allora, l'obiettivo quindi è andare a vedere quelle che sono le caratteristiche base di Java. Non vi riprendo le slide che comunque avete a disposizione e avete anche il video di presentazione. Vi presenterò alcuni nuovi video, ve l'ho già detto, tendenzialmente il venerdì qualcosa da vedere entro la lezione del lunedì e il martedì qualcosa da vedere entro la lezione del giovedì. Sono momenti extra, però diciamo che la parte interattiva, allora se siete in aula tanto quanto, ma a casa avere me davanti al monitor che parlo per un'ora e mezza o tre ore è oggettivamente noioso. Per cui fare un qualcosa di interattivo programmando sicuramente è un po' più interessante e soprattutto può andare a evidenziare dubbi o problemi che dovremmo essere in grado di risolvere al volo. Allora, l'ambiente di sviluppo che utilizzeremo durante il corso e durante l'esame è Eclipse. Vi ho menzionato nella lezione di lunedì introduttiva anche un altro ambiente che si chiama IntelliJ. che è anch'esso diffuso, in questo momento probabilmente è un po' più diffuso IntelliJ rispetto a Eclipse. Qualcuno mi dice che è un po' meglio. Eclipse ha il vantaggio di avere una modalità di funzionamento base un po' più semplice da utilizzare. IntelliJ richiede molte più attività di configurazione e quindi come inizio è un po' più ostico. In Eclipse quello che possiamo fare è andare a creare un nuovo progetto. Io ho lanciato Eclipse 2020-12 che è l'ultima versione stabile e disponibile. Eclipse tendenzialmente fa un paio di release ogni anno. Per cui il suffisso 12 vuol dire che questa è la release di dicembre del 2020. Ok, ce ne sarà un'altra 2012-4, credo, che dovrebbe uscire a breve. Ovviamente noi utilizziamo qualcosa che c'è adesso ed è stabile. Soprattutto stabile perché così voi avete l'ambiente installato ed è quello che poi andrete a utilizzare durante tutti i laboratori e durante soprattutto l'esame. Quindi non ci sono... Se voi installate un'altra versione, siete liberi di farlo, l'unico svantaggio vostro è che ovviamente se c'è qualcosa di strano, qualche piccola differenza, io e tutti quelli che collaborano al corso non siamo in grado di darvi un supporto immediato. Quindi il mio consiglio forte è verificate di aver installato JDK 11. 12, ci sono anche 14, 15, le ultime versioni disponibili, ma l'11 è quello raccomandato, perché così almeno abbiamo esattamente lo stesso comportamento dappertutto, e Eclipse 2020-12. I link li ho messi un po' dappertutto, quindi non dovrebbe essere un problema. Come facciamo a partire? Allora, iniziamo a creare un progetto. E' un qualcosa che tendenzialmente farete una volta sola, perché poi normalmente quello che vi do è un progetto pronto, ok? Già un progetto già inizializzato, con del codice ovviamente vuoto, che voi dovrete poi andare a completare, e in cui dovrete aggiungere altri elementi. Però è bene saperlo fare una volta, perché se volete creare un progetto da zero, è utile vedere almeno come funziona. Allora, potete creare, potete cliccare qui, Create Java Project, oppure potete andare a cliccare qua su, il più, che vi propone tutta una serie di cose nuove che potete creare. E qui potete andare a scegliere Java, e poi Java Project. Vedete che ci sono tante altre cose che voi potete creare. Ad esempio, Eclipse può essere esteso con dei plugin che permettono di fare lo sviluppo in altri linguaggi, C, C++, Python e altro. La versione che vi raccomandavo di scaricare, cioè Eclipse for Java developer, sostanzialmente ha i progetti Java soltanto. Quindi, Java Project next. A questo punto, quello che dobbiamo andare a definire è il nome del progetto. Primo progetto. L'ambiente di riferimento, il linguaggio che utilizzeremo, non è Java 11, ma è Java 1.8. Il linguaggio che spiegheremo durante il corso è la versione 8. La versione 11 ha alcune estensioni in più. Tendenzialmente compatibile. Tutto quello che funziona con Java 8 funziona con Java 11. Ma per essere sicuri che tutto funzioni, e anche i progetti che vi daremo, sostanzialmente hanno come ambiente di esecuzione, quindi il tipo di librerie, Java 8. Tutti gli ambienti di sviluppo Java hanno dei flag che permettono di andare a compilare o eseguire del codice che sia conforme a una certa versione del linguaggio. Quindi, use an execution environment e andiamo a mettere Java 1.8. Se mettete 11 cambia veramente poco, però in questo modo siamo sicuri che i controlli del compilatore siano conformi al linguaggio versione 8. A questo punto possiamo cliccare finish. Vi faccio notare soltanto un piccolo particolare che poi vedremo anche appena il progetto è stato creato, ovvero che qui abbiamo due opzioni per quello che si chiama il project layout, ovvero come è strutturata la cartella che contiene il progetto. Una possibilità è di avere un'unica cartella in cui mettiamo sia i file sorgente che i file .class o bytecode che vengono generati. L'altra opzione che è quella scelta per default è quella di andare a creare due sottocartelle, una che si chiama src, l'altra che si chiama bin, in cui mettete nella prima i sorgenti e nella seconda vengono generati i file .class. Questo layout, allora, se voi avete un programma semplice, semplice, con 4 o 5 classi, sostanzialmente non c'è differenza. Se iniziate ad avere dei programmi relativamente complessi, dovete fare altre operazioni, ad esempio andare a compattare tutti i bytecode in un file jar per poterlo rilasciare o altro, è decisamente meglio e molto più ordinato avere le due cartelle separate. Ed è la configurazione standard in qualunque linguaggio, qualunque ambiente di sviluppo. Quindi, scegliamo questo e chiediamo ai Clips di crearci il layout in termini di cartelle con queste due sottocartelle, src e bin. A questo punto, nome, selezionato 1.8, non dobbiamo fare altro che fare finish. C'è un problema con la libreria Java HL per subclips, che possiamo tranquillamente ignorare. Allora, subclips è un plugin che non utilizzeremo oggi, utilizzeremo della settimana prossima, che serve per collegarsi a subversion. Il plugin per Eclipse ha due possibili funzionamenti. Uno, utilizzando una libreria dinamica, Java HL per l'appunto, che però è disponibile soltanto nell'ambiente Windows e deve essere installata. Oppure utilizzare una libreria puramente Java, che si chiama SVN Kit, che è già disponibile e su cui automaticamente il plugin va a funzionare. Quindi, mi dice che Java HL, che è quello che stava cercando, non l'ha trovato, in realtà adesso tranquillamente funzionerà con il SVN Kit. Ma ci torniamo perché vi vedremo i dettagli di come utilizzare questo plugin la settimana prossima. Primo progetto. Il nome del nostro progetto, che corrisponde, se noi andiamo a vedere sul file system, a una cartella. Quando voi avviate per la prima volta Eclipse, vi chiede di andare a scegliere quello che è un workspace, ovvero una cartella in cui andare a disporre tutti i progetti. Quindi, ogni progetto sarà una sottocartella della cartella workspace. Vi consiglio di scegliere un workspace, eventualmente creare una nuova cartella e non andare a mettere tutto su desktop o su documenti, perché altrimenti vi ritrovate un pasticcio incredibile. Quindi, create una cartella che chiamate workspace, Java, programmazione di oggetti, come volete, in modo che tutti i progetti siano messi lì e non vadano in giro per il vostro file system. Se per caso avete già scelto una cartella che non è una di queste che vi ho raccomandato, quello che potete fare è andare dal menu file e fare switch workspace. Qui potete andare a vedere altri workspace che erano disponibili, oppure fare adder e andare a creare un'altra cartella in cui mettere tutti i vostri progetti. Il primo progetto, come vedete, ha una cartella che si chiama src, che è vuota, perché il progetto ovviamente l'abbiamo appena creato e non ha nulla. E poi lista tra gli elementi, questa che si chiama la libreria JRE System Library. Vedete SE 1.8, quindi la libreria della versione 1.8. Come vi accennavo quando ho introdotto il linguaggio Java, Java include una serie enorme di librerie che sono disponibili sempre. domanda online. Se volessi creare un progetto in una cartella diversa da quella di default, c'è un problema? No. Quando fate la creazione del progetto, automaticamente un'opzione che io non vi ho commentato è quella di dove andare a mettere il progetto. automaticamente lo mette nel workspace su cui state lavorando, ma volendo potete scendere voi una posizione diversa all'interno del vostro file system. Questo non è una cartella vera e propria che sta nel progetto, è semplicemente un riferimento. Vi dice che il vostro progetto ha come libreria disponibile questa. La libreria starà in una cartella in cui è installato Java, al JDK e da quella andrà ad attingere tutte le classi che ci serviranno. A questo punto in SRC andiamo a creare una nuova classe. Quindi clic destro, new e class. Vi faccio notare che stiamo ragionando in termini di classi e non di file. Allora, domanda. C'è un warning che è scritto che non è disponibile il JRE compatibile con 1.8 e ne avrà usato uno con JRE 15. Allora, avete probabilmente installato già sul vostro PC il JDK 15. Il warning è normale, nel senso che non avete installato il JRE 8, ma utilizzerete il flag di compatibilità con la versione 8 di Java. Quindi non dovrebbe essere un problema. Attenzione che poi voi avete JRE 15. Dovrebbe funzionare tutto allo stesso modo, ok? Senza particolari problemi. Quindi, new class. Noi parliamo di classi e non di file. Se voi andate a utilizzare un ambiente di sviluppo C, quello che dovete creare sono dei file. Invece qui ragioniamo, l'ambiente di sviluppo C fornisce come strumenti, come concetti base su cui ragionare, quelli del linguaggio. E il linguaggio Java non parla di file, non parla di funzioni, non parla di variabili, ma parla di classi. Quindi, classe. Viene aperto questa finestra in cui andare a definire quelli che sono i parametri della classe, sostanzialmente il nome. Quindi, esempio. Ci sono tutta una serie di flag che ora non vi spiego, ma capirete man mano che vediamo come funziona il linguaggio. L'unico flag che può essere interessante è questo che vedete qui sotto, dove si dice Public Stated Void Main, che io vado a selezionare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se attiviamo questo flag, automaticamente Eclipse andrà a generare il metodo che si chiama Public Stated Void Main. Ecco qua il risultato. Allora, in aula non vedete niente, a casa non lo so. Qui. Ingrandisco un attimo il font, così è più visibile per tutti. grazie o meglio qui in aula ci vedete anche se è su sfondo nero lo schermo è grande quindi volendo possiamo anche ingrandire un altro 32 vi chiudo questo outline che non ci interessa per il momento allora domanda non appare il package explorer in cui è contenuto primo progetto allora se hai creato il il primo progetto è da creare esplicitamente quindi bisogna andare a cliccare più se non appare questa visualizzazione è perché probabilmente non è stata selezionata la visualizzazione compatibile con java che voi potete andare ad attivare in questo modo se voi andate in window perspective open perspective e poi potete andare a scegliere vabbè debug in questo momento non ci interessa ma potete andare a scegliere ovviamente java default e quindi se avete una visualizzazione stramba non vedete il package explorer o altro può succedere magari o la configurazione di eclipse non è perfetta oppure avete fatto qualche qualche pasticcio nell'andare ad aprire e chiudere le finestre e questo vi ripristina questa che è la visualizzazione standard con il package explorer qua l'editor l'outline che in realtà ci interessa poco che cosa ha fatto eclipse? sostanzialmente ha creato la classe creare la classe vuol dire creare il file esempio.java che vedete qui a sinistra e all'interno ha messo questi contenuti vedete public class esempio il nome della classe maiuscola esattamente come il nome del file quindi è una convenzione che eclipse rispetta automaticamente senza che io debba andare a dirgli nulla poi visto che avevamo selezionato il flag ci viene creato il metodo main il metodo main ovviamente contiene semplicemente questo commento a differenza delle versioni più vecchie di C in java oltre ai commenti slash star star slash è possibile utilizzare i commenti col doppio slash che considerano come commento tutto il resto della linea a questo punto andiamo qui dentro a scrivere una linea quindi system out vedete che c'è un buon suggerimento già attivo e quindi non dobbiamo fare troppi sforzi di memoria mentre scrivo vedete che eclipse mi dà dei suggerimenti su come completare mi dà anche una segnalazione degli errori vedete che qui sotto sotto l'ultima tonda c'è una una piccola sottolineatura in rosso per cui se vado qui compare la spiegazione di cos'è quell'errore l'errore è un errore di sintassi dice insert semicolon to complete block statement quindi manca un punto e virgola per completare lo statement la stessa cosa la vedete qua nel bordo vedete che c'è il bollino rosso con la x che mi dice syntax error stesso commento ok a questo punto se io metto il punto e virgola e clips toglie la sottolineatura toglie il marker sul bordo quindi il codice corretto salvo e dopo di che vado a prendere questo file click testo run as java application e qui sotto vedete in basso a destra nella console compare l'output del nostro programma ok sì allora come ho fatto a farlo partire ho selezionato la classe cioè il file sorgente ho fatto un click destro e poi sono andato a scegliere run as e java application a questo punto i prossimi le prossime esecuzioni le posso fare semplicemente andando a scegliere questo pulsantino di run in alto normalmente uso il pulsantino di run il problema è che il pulsantino di run tendenzialmente vi esegue l'ultimo programma che avete eseguito normalmente nei nostri programmi ci sarà un'unica classe con un metodo main però se voi avete più classi col metodo main ecco magari non state eseguendo quella che avete in mente ok quindi per essere sicuri di stare eseguendo esattamente quel main se fate clic destro quella è la classe di partenza sostanzialmente cosa fa Eclipse va a prendere questo file compilarlo vedete che noi non abbiamo fatto nessuna compilazione esplicita nel momento in cui salviamo il file Eclipse lo compila automaticamente quindi genera il file bytecode e poi nel momento in cui andiamo a fare run prende la Java Virtual Machine e gli passa come parametro il nome di quella classe che è quello che abbiamo fatto a mano nella scorsa lezione Allora domanda online dopo aver creato un progetto questo non viene aperto in automatico non saprei verifica di aver aperto un progetto Java e di averlo messo nella cartella giusta quindi praticamente abbiamo fatto con Eclipse la stessa cosa che avevamo fatto la volta scorsa con l'editor e la linea di comando a questo punto proviamo a capire meglio quali sono gli strumenti base del linguaggio Java allora in Java esattamente come in C o in tanti altri linguaggi è possibile andare a definire delle variabili le variabili essendo Java un linguaggio fortemente tipizzato devono avere un tipo per cui se vado a dichiarare variabile I e voglio che sia di tipo intero andrò a scrivere in I pari pari a quello che scriveremo in C Java ha a disposizione tutta una serie di tipi primitivi che sono questi alcuni sono esattamente identici a quello che abbiamo in C altri sono un po' diversi quindi byte non c'è se non in qualche variante di C però sostanzialmente è analogo short int e long sono sostanzialmente identici non abbiamo gli unsigned in Java float e double di nuovo sono analoghi void c'è dappertutto il char è leggermente diverso in in C normalmente un char è l'equivalente di un byte quindi sono 8 bit in Java la codifica dei caratteri non è quella standard ASCII che viene utilizzata in C ma utilizza una codifica Unicode UTF 16 basata su 16 bit quindi i caratteri in Java sono 16 bit per cui non sono utilizzabili ad esempio per andare a indirizzare i singoli byte di un intero tanto per dire per questo scopo c'è ad esempio byte quindi i caratteri non sono più l'equivalente del byte ma sono qualcosa di diverso altro l'altro aspetto importante è che in Java abbiamo il tipo boolean perché abbiamo boolean perché in Java si è deciso un approccio leggermente diverso nel design del linguaggio in cui tutti i costrutti condizionali hanno la necessità di avere un valore booleano in C lo sapete io passo un intero se è 0 è falso altrimenti viene considerato come vero questo ci porta un sacco di problemi ad esempio se io vado a fare ve lo scrivo direttamente qua if i uguale a 1 tipico errore di battitura che può succedere molto spesso questa è un'assegnazione e non è un confronto questa scrittura in C funziona in Java no perché mi dice non posso convertire un valore intero in un booleano quindi in C questo test qua è sempre vero ok perché il risultato di tutta l'espressione è il valore che assegniamo a I quindi è 1 in Java è un errore di sintassi perché per l'appunto tutti i costrutti di controllo necessitano un valore booleano quindi il linguaggio immediatamente è in grado di identificare io in fase di compilazione quello che fa Eclipse al volo che ci visualizza così è di fatto una compilazione incrementale man mano che scriviamo Eclipse compila quello che stiamo scrivendo nell'editor e poi salvando viene fatta la compilazione complessiva della classe e in effetti Eclipse ci dà un errore che dice questo è qualcosa che non si può scrivere è vero che talvolta in C volendo essere molto sintetici posso utilizzare i risultati di un'assegnazione come condizione in Java invece non lo posso fare però ci evita un sacco di errori soprattutto errori di battitura quindi quello che posso scrivere lì è un i uguale uguale a 1 a questo punto questa è una scrittura corretta perché il risultato di un confronto qualunque tipo di operatore di confronto è per l'appunto un valore booleano e quindi funziona e soprattutto ci è evitato il tipico errore di battitura che poi non scopriamo se non quando il cliente viene a bussare la porta dicendo che non funziona la struttura delle istruzioni di controllo è sostanzialmente la stessa per cui abbiamo l'if volendo l'else abbiamo i cicli while i for ok qualche piccola variante che comunque vedremo ovviamente gli operatori logici sono diversi dagli operatori bit a bit per cui se io voglio fare i uguale a 1 diciamo i uguale a 1 non ha molto senso diciamo i maggiore di 1 e i minore 10 lo posso scrivere con l'operatore logico tranquillamente se invece di raddoppiare la e commerciale ne metto una sola quello diventa un operatore bit a bit che ovviamente non opera sui valori booleani ma bensì opera sugli interi su cui probabilmente avrete già visto un po' di esempi nel corso di nei corsi precedenti quindi tipi di base sostanzialmente identici si compattano allo stesso modo con questa piccola aggiunta del valore booleano che però ci irrobustisce il linguaggio nel senso che è più resiliente a errori nostri di programmatore ricordatevi che Java è stato progettato proprio per ridurre questo tipo di errori in generale qual è la strategia dato che l'errore comunque bene o male scappa l'idea è prima lo intercetto meno mi costa correggerlo se l'errore lo intercetto immediatamente mentre sto scrivendo il codice perché l'X mi dice che l'uguale non va bene correggerlo mi costa praticamente nulla ok devo andare indietro vedo la riga leggo il messaggio l'errore e aggiungo raddoppio l'uguale risolto un pochettino più di fatica c'è se non vedo l'errore qui salvo e mi salta fuori un errore questo può succedere se ad esempio ho due file che di cui uno referenzia l'altro e finché non ne salvo uno non salta fuori l'errore dell'altro a questo punto è un pochettino più complicato però ragionevolmente l'ultima modifica che ho fatto è quella che ha causato l'errore e quindi posso trovarlo facilmente il passo successivo è sto facendo il test del mio programma e lì salta fuori qualche mal funzionamento ovviamente lì è un po' più complicato perché devo risalire alla la causa e mi porta via molto più tempo dopodiché ho rilasciato il nostro programma al cliente e questo decide di non pagarmi perché non fa quello che deve oppure mi manda un'email dicendo guarda non funziona a questo punto devo capire perché non funziona come avrebbe dovuto funzionare qual è il malfunzionamento che il mio utente sperimenta da quello risalire al codice che l'ha generato capire dove l'errore e correggerlo tendenzialmente in tutti questi passaggi io ho una crescita esponenziale moltiplico per 5-10 il tempo necessario e quindi anche il costo per risolvere il problema quindi più il linguaggio è stringente strongly tight prima riesco a intercettare questi problemi c'è anche il rovescio della medaglia devo scrivere un sacco di cose cioè devo andare a dichiarare i tipi delle variabili devo fare attenzione a tutte le conversioni devo fare delle dichiarazioni precise perché il linguaggio ovviamente poi deve poter controllare e quindi la scrittura di un codice in un linguaggio strongly tight è un po' più dispersiva verbosa se utilizzate linguaggi non strongly typed javascript piuttosto che python questo problema non si pone scrivete qualunque cosa e tendenzialmente se non avete scritto qualcosa che proprio dal punto di vista di sintassi non sta in piedi il compilatore non vi dice nulla ve ne accorgete poi a runtime quindi è un bilanciamento ci sono pro e contro domanda l'utilizzo della singola e la singola e è un bit a bit per cui ad esempio se io faccio invece di inizializzare a 0 potrei inizializzare a 0x 1 and and 0x3 che sono un intero con tanti zeri e un 1 e un intero con tanti zeri e due 1 ok quindi risultato 1 e 1 fa 1 0 e 1 fa 0 e quindi questa cosa qua diventa 1 ok and bit a bit il doppio end invece è operatore logico e l'operatore logico richiede ovviamente l'abbiamo detto dei risultati che siano booleani e produce ovviamente un valore booleano quindi a questo punto noi siamo in grado di scrivere i programmini base di c in java ok non abbiamo parlato di array perché gli array sono una bestia abbastanza diversa in java ma ci arriveremo l'altra cosa importante che java introduce per l'appunto sono le classi che cos'è la classe? è un nuovo tipo un nuovo tipo ma molto articolato che sostanzialmente ha una serie di campi o attributi è un parente stretto delle strutture delle struct in c la classe che abbiamo scritto adesso ad esempio è una classe vuota nel senso che non ha nessun nessun campo nessun attributo posso andare a creare una classe nuova quindi clickdestro new class e la chiamo persona in cui posso andare a mettere i campi o attributi gli attributi potrebbero essere che so un intero che è la matricola una stringa che è il nome una stringa che è il cognome eccetera ok qui se invece di scrivere public class avessi detto struct persona aperta tonda la struct non ci sono in java ok per cui non ve lo posso mettere però in c scrivendo struct persona avrei ottenuto praticamente lo stesso risultato quindi sostanzialmente la parola chiave class mi permette di andare a dichiarare dei nuovi tipi qual è la grossa differenza tra i tipi primitivi che abbiamo visto finora e i tipi nuovi che io devo definire come classi domanda il tipo string non necessita di una dimensione no le stringhe si ridimensionano automaticamente quindi non hanno necessità di mettere un tipo scusate una dimensione quindi dimenticatevi gli array di caratteri qui dovete andare a calcolare la dimensione più aggiungere il terminatore eccetera perché queste cose qua se le fa in automatico java come faccio se io voglio andare a dichiarare una variabile tipo persona allora lo posso fare salvo questo torno al mio esempio faccio tutto in questo esempio qua perché ho messo il main e questa classe la uso esclusivamente come contenitore del main ok è abbastanza comune avere una classe dedicata a contenere il metodo main e poi tutte le altre classi che invece sono quelle effettive quindi qui è come avessimo il nostro programma principale che ha la funzione main e da lì parte tutto più tutti i file separati in cui ho le varie sottofunzioni c'è una domanda online sul costruttore però ti rispondo dopo perché appena iniziamo a parlare di costruttori ci torniamo allora i tipi primitivi li abbiamo visti scusate così voglio dichiarare una variabile di tipo persona lo posso fare quindi persona p che cosa significa questo come traduce java questa dichiarazione sostanzialmente questo facendo il parallelo col c equivale a dire un struct persona star quando dichiara una variabile che ha come tipo una classe eclipse scusate eclipse java interpreta questa dichiarazione come un pseudopuntatore questa cosa qua si chiama in java un reference o riferimento in italiano quindi crea un riferimento a un oggetto di tipo persona in c se io dichiaro una variabile di tipo struct automaticamente è un oggetto strutturato quindi ha tutti i campi in java quando dichiaro una variabile di quel tipo non ho creato la struttura l'oggetto della classe ma ho creato semplicemente ho dichiarato semplicemente un riferimento quando dichiaro un riferimento questo sostanzialmente è come fosse inizializzato a nulla cioè c'è il riferimento parla puntatore nascosto ma non c'è l'oggetto che cos'è l'oggetto allora la classe è una dichiarazione di un tipo mi dice il tipo persona è fatto con tre campi tre attributi matricola nome cognome ok mi definisce un tipo ovviamente io del tipo me ne faccio nulla finché non ho creato in memoria un oggetto che ha effettivamente quei tre campi quindi l'oggetto che cos'è l'oggetto è quella posizione in memoria che ha la struttura definita dalla classe in cui ho quei tre attributi quindi come faccio a creare l'oggetto lo creo con quello che è l'operatore new quindi new persona questa cosa qui è vago parente di un malloc size of struct persona ok non so se sia sinteticamente corretto sono un po' arruginato in c quindi però avete capito il significato quindi qui ho dichiarato il riferimento qui ho assegnato a riferimento l'oggetto creato con l'operazione new quindi la differenza sostanziale è la classe è una definizione astratta di un tipo di una certa struttura l'oggetto è un qualcosa che esiste in memoria e a cui posso accedere tramite un riferimento è assimilabile a una DT se volete sì nel senso le classi sono un po' più flessibili ma assomigliano tanto a un abstract data type poi gli abstract data type sono di solito utilizzati per un ambito un po' più ristretto però l'idea è quella la DT mi definisce la struttura e le operazioni esattamente come fa la classe per il momento abbiamo visto soltanto la struttura adesso arriviamo alle operazioni domanda posso creare un oggetto di tipo persona nella classe esempio perché si trova nello stesso package in questo caso sì arriveremo poi a vedere la visibilità se vedete le due classi esempio e persona si trovano direttamente nello stesso package qui si chiama package di default per cui si vedono l'un l'altro domanda possiamo usare la forma contratta sicuramente possiamo anche utilizzare la forma persona q uguale new persona aperta e chiuse al fondo perfettamente valido quindi questo è un reference e questo è un allocazione di un oggetto in maniera più sintetica lo possiamo scrivere anche su una riga solo attenzione però che ricordatevi bene ve l'ho fatto per la prima volta separatamente perché la dichiarazione del reference e la creazione dell'oggetto sono due cose non strettamente collegate se creo reference ma non se dichiaro reference ma non creo l'oggetto quella reference non punta a nulla quindi non lo posso usare ovviamente io a questo punto ho il mio oggetto e cosa me ne faccio di un oggetto beh esattamente come veniva con gli ADT posso andare a definire delle operazioni che voglio andare a svolgere a svolgere su questo oggetto domanda ha senso mettere gli attributi in questa classe allora sì io posso metterli è semplicemente una convenzione di andare a mantenere separato la classe con il main dalle altre classi però ovviamente potrei andare a mettere degli attributi qua dentro e creare una classe di tipo esempio solo che confondo un po' più le idee questo vediamolo come il main e poi ci sono le altre classi a questo punto vi dicevo cosa me ne faccio di un oggetto beh l'oggetto oltre ad avere una struttura può avere anche delle operazioni che vengono svolte le operazioni sono definite con quelli che si chiamano i metodi quindi questi sono attributi di solito vengono chiamati field in inglese quindi quando avete dei commenti dei messaggi di errore ad esempio che parlano di field ecco quelli sono gli attributi e poi abbiamo i metodi metodo a volte si usa il termine operazione operation ok in java tendenzialmente sono chiamati metodi ok nel 90% dei linguaggi ad oggetti questi sono chiamati metodi il metodo che cos'è l'abbiamo visto con il metodo main il metodo sostanzialmente è una funzione che è pensata per andare a operare su un oggetto quindi ad esempio public void stampa quindi metodo senza parametri in cui posso andare ad esempio a fare un system out println persona due punti più nome mettiamoci anche la matricola in java posso concatenare le stringhe e posso concatenare una stringa con qualunque altra cosa con il più quello che ottengo è una nuova stringa che è la concatenazione di quanto avevo prima vi lascio tre secondi per pensare a come l'avreste scritto in c ok dovendo calcolare la dimensione della stringa risultante quindi allocandola e poi andando a fare un strk e se tirare cut però è binario quindi riuscite a metterne due per volta ok quindi decisamente più semplice uno degli obiettivi abbiamo sempre detto più volte di di java era quello di fare un linguaggio che fosse più semplice da utilizzare e uno dei grossi problemi che c'è sempre in c è quello di andare a manipolare le stringhe e quindi risolto con la concatenazione fatta al volo in questo modo torneremo poi più avanti settimana prossima sulle stringhe e sui caratteri per vedere un po' più i dettagli per il momento vi do qualche flash pratico su queste caratteristiche ma poi rivedremo per bene le stringhe con calma una settimana prossima quindi che cosa succede questo metodo sostanzialmente stampa abbiamo visto che questa cosa qua serve per stampare stampa persona due punti spazio per tatonda concatena con la matricola quindi converte l'intero in caratteri printf%d per capirci concatena con chiusa tonda spazio e concatena ancora con il nome che è una stringa quindi una volta che ho creato il mio oggetto che cosa faccio vado a fare un p punto stampa e qui vediamo come possiamo andare a utilizzare i riferimenti uso la notazione con un punto quindi ho riferimento punto metodo e sostanzialmente cosa faccio vi ho detto già prima nell'esempio che di fatto i riferimenti sono analoghi ai puntatori quindi il punto mi permette di andare a dereferenziare il puntatore in C usando i puntatori avrei utilizzato la freccia in Java non essendoci espliciti i puntatori il punto serve per andare a dire prendi questo riferimento vai all'oggetto puntato da e di quell'oggetto recupera il metodo poi in realtà si dice l'oggetto referenziato da per evitare confusioni quindi qualcuno dice non non ci sono puntatori in in Java né nel senso che è vero i puntatori non ci sono esplicitamente però sotto sotto tutti i riferimenti sono dei puntatori però un po' mascherati un po' controllati quindi molto più facili e meno rischiosi da utilizzare quindi vi danno molti meno problemi quindi riferimento punto stampa cosa fa? prende quell'oggetto e va a stampare l'oggetto quindi abbiamo definito la struttura del nostro oggetto abbiamo definito le operazioni in realtà una ma è giusto come esempio per andare a fare la stampa ovviamente come scrivono in chat questa cosa qua non stampa nulla cioè nel senso che l'oggetto è stato inizializzato è stato creato ma non è stato inizializzato non sono stati inizializzati i suoi attributi quindi se io vado a eseguire la stampa che cosa ottengo? persona zero e null cioè zero è la matricola null è la stringa da errore di sintassi attenzione dipende cosa hai scritto probabilmente se è un errore di sintassi non hai scritto esattamente quello che ho scritto io qua l'errore di sintassi Eclipse comunque te lo evidenzia direttamente qui quindi puoi aver dimenticato un punto e virgola oppure potrebbe esserci un errore di sintassi in persona in base a come l'hai scritto quindi il risultato ve lo rilancio così vediamo l'output è per l'appunto zero matricola e null il nome perché? perché ovviamente non abbiamo inizializzato nulla ma diciamo che ci aspettavamo qualcosa di strano come facciamo a inizializzare gli attributi di un oggetto? questo è un problema che si poneva già in C quando abbiamo una struttura c'è una domanda che però non ho capito cosa perché abbiamo messo prima di matricola e dopo matricola allora questa è una stringa concatenata con il valore di matricola concatenata con un'altra stringa concatenata con la stringa contenuta in nome quindi gli apici prima e dopo matricola in realtà sono l'apice di chiusura e l'apice di apertura di due altre stringhe ok? quindi per evitare di avere delle stampe di valori che non hanno senso dobbiamo inizializzare il problema si poneva già in in C quando avete una struttura una struct in qualche modo dovete inizializzarla normalmente se avete un un ADT in C avete una una funzione init che serve per andare a inizializzare quella struttura il l'equivalente di questo meccanismo però può funzionare anche in Java ma al grosso limite che io potrei anche dimenticarmi di chiamare il metodo int scusate il metodo init motivo per cui in Java ma in realtà in tutti i linguaggi di programmazione ed oggetti sono stati definiti alcuni metodi particolari che si chiamano costruttori il costruttori il costruttore che cos'è è un metodo che viene chiamato automaticamente per inizializzare l'oggetto l'oggetto per cui posso andare a definire un costruttore che si chiama public persona che mi dice matricola uguale meno uno è giusto per dare dei valori iniziali nome uguale non definito e cognome uguale stessa cosa a questo punto cosa succede che qui quando io vado a fare new persona automaticamente new dopo aver fatto la malloc ci chiama anche il costruttore senza che noi dobbiamo dire nulla se il costruttore è presente nella classe questo viene chiamato per cui a questo punto se io vado a rieseguire il mio programma ho persona meno uno non definito quindi abbiamo un valore inizializzato un paio di domande volendo mettere le scene lo dobbiamo mettere tra virgolette sì esattamente come in C quindi dobbiamo metterlo tra virgolette attenzione che il metodo println che abbiamo utilizzato qua aggiunge automaticamente un a capo infatti nell'output dopo ogni stampa andiamo a capo quindi println aggiunge già lui l'acapo e non è necessario aggiungerlo noi esplicitamente domanda se non mettessimo public allora qui in questo caso particolare public non è estrettamente necessario ok però torneremo a nella prossima lezione in realtà quella che già vi pubblicherò domani da guardare per venerdì vedremo le regole di visibilità in cui capiremo meglio che cosa servono public eccetera domanda come fa a capire che proprio voi è il costruttore ecco la regola è che il nome del costruttore deve essere identico al nome della classe quindi persona e persona attenzione qui non c'è il tipo di ritorno non nel senso che vabbè possiamo anche ometterlo no proprio non deve esserci se io metto il tipo di ritorno il compilatore interpreta quella roba lì non come un costruttore ma come un metodo che incidentalmente ha il nome uguale alla classe e quindi non lo chiama quindi attenzione mai ma proprio mai mettere il tipo di ritorno è anche vero che se io provo a metterlo così vedete che eclipse mi segnala sottolineato in giallo quello che è un warning il warning non è un errore nel senso che eclipse è in grado di compilare tranquillamente il codice ma però è qualcosa che probabilmente non è ideale il warning se andiamo a vedere cosa ci dice eclipse è this method has a constructor name guarda che hai creato un metodo che però ha il nome di un costruttore quindi o hai una motivazione seria per andare a usare un metodo che ha quel nome lì oppure più probabile però eclipse educata non ce lo dice hai sbagliato e quindi non avresti dovuto mettere il tipo di ritorno domanda ci sarà bisogno di distruttori come in c++ allora la domanda è legittima nel senso che abbiamo parlato di costruttori potrebbero anche esserci distruttori in c abbiamo mallo che poi abbiamo free java ci libera dalle free nel senso che noi dobbiamo creare gli oggetti con new ma il la virtual machine automaticamente farà le free quando quegli oggetti non sono più utilizzati quindi ce ne dimentichiamo come fa a capire se non sono più utilizzati beh se andiamo a vedere qui se io creo persona e poi dico q uguale persona scusate dico q uguale a null l'oggetto che avevamo creato qui e che è stato puntato per una frazione di secondo da q non è più raggiungibile in alcun modo sebbene ci sia la memoria in cui c'è quell'oggetto quell'oggetto non è più raggiungibile perché il riferimento che puntava a quell'oggetto è stato sovrascritto quindi cosa succede la java virtual machine ha nello stack i riferimenti le variabili locali se nessuna di queste variabili locali punta a un certo oggetto vuol dire che quell'oggetto lì può essere liberato la memoria di quell'oggetto può essere liberata e quindi ci annulla l'oggetto e lo butta via il punto è che non sappiamo quando lo fa non possiamo andare a dire ai clips ok butta via questo oggetto è un qualcosa che in maniera esplicita non possiamo fare possiamo andare a suggerire ai clips di fare una pulizia della memoria però le specifiche java ci dicono che non c'è un modo sicuro per garantire che la memoria venga liberata in un certo istante e sicuramente non c'è nessun modo per andare a dire voglio liberare la memoria di un particolare oggetto lo fa e clips scusate lo fa e clips lo fa la java virtual machine con politiche e tempi suoi prima o poi la memoria verrà liberata attenzione potrebbe anche essere mai nel senso che se il programma termina prima che la java virtual machine abbia avuto l'idea di andare a liberare la memoria la deallocazione di quella memoria non viene mai fatta semplicemente viene chiuso il processo non c'è bisogno di deallocare nulla perché finisce il processo a questo punto come viene suggerito anche in chat mi va bene questo costruttore però mi piacerebbe poter inizializzare i miei attributi con un qualcosa di un pochettino più significativo e quindi cosa posso fare? posso andare a definire un costruttore che abbia dei parametri quindi matricola intero matricola string nome string cognome quindi matricola uguale matre nome uguale a n e cognome uguale a c come faccio a utilizzare questo costruttore nella creazione di un oggetto? la sintesi è sempre quella solita quindi new persona invece di fare new persona così faccio new persona matricola 123456 a questo punto se esegue il mio programma ho la matricola 123456 di Pico ok quindi costruttore senza parametri costruttore con i parametri torno un attimo sulla non più di tanto qua perché comunque l'uso è abbastanza intuitivo torno un attimo invece sulla classe persona per farvi notare che persona e persona sono molto simili in C io questa cosa non avrei potuto farla avere due in realtà questi non sono metodi sono pseudometodi ma insomma sono stretti parenti che hanno lo stesso nome in C non è possibile in Java invece è possibile e si chiama overloading uguali più metodi o costruttori con lo stesso nome ed è comodo perché evita di andare a definire tutta quella serie di metodi che hanno suffisso V P E EP V E eccetera 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 qual è l'unico criterio che dobbiamo seguire per poter andare a definire degli overload dello stesso metodo il criterio è che i parametri devono essere diversi ovvero il compilatore andando a osservare quali parametri passo è in grado di capire quale variante chiamare quindi posso definire dei tanti overload dello stesso metodo dello stesso costruttore purché i parametri siano distinti alcune domande in chat e poi torniamo al discorso di prima quando faccio Q uguale a null è possibile dopo alcune righe andare a rinizializzarlo sì Q è una variabile di tipo reference e quindi ci posso scrivere i valori e posso andare a dereferenziarla tranquillamente con il punto faccio ogni U posso anche andare a scrivere Q uguale a P scusate quindi a questo punto che cos'ho? ho due riferimenti che puntano o si riferiscono a lo stesso oggetto anche in C era possibile avere due puntatori che andavano sulla stessa area di memoria ok? qui due riferimenti che vanno a riferirsi allo stesso oggetto questo di solito si chiama aliasing ovvero più nomi i nomi delle variabili per l'appunto per andare a riferirsi allo stesso oggetto alla stessa persona in questo caso per cui ripeto pensando di rispondere anche alle domande successive in chat sostanzialmente Q è una variabile che è come fosse un puntatore dentro ci vado a scrivere l'area di memoria in cui si trova l'oggetto grosso modo ok? poi c'è un po' di differenze ma tanto per intenderci dentro la variabile di tipo reference vado a scrivere l'area di memoria l'indirizzo in cui si trova l'oggetto e quindi se scrivo Q uguale a P che cosa faccio? Copio l'area di memoria che c'è dentro Q dentro scusa l'area di memoria scritta dentro Q dentro 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 P la copia dentro Q copio l'indirizzo non copio l'oggetto questo non copia l'oggetto copia semplicemente il riferimento è una cosa da ricordare bene altrimenti rischiamo di confonderci domanda sì 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 sicuramente lo possiamo fare certo con la notazione puntata sì allora è qualcosa che non vi ho fatto vedere perché in generale quindi avro una piccola parentesi in generale quando io vado a creare un oggetto l'ideale è che tutti gli attributi siano privati e siano accessibili soltanto da quelle che sono le classi scusate i metodi dell'oggetto della classe perché perché se chiunque può accedere agli attributi di un oggetto non so più bene se qualcosa non funziona chi è che ha modificato il valore se invece soltanto i metodi dell'oggetto possono accedere ai suoi attributi ecco è circoscritto io apro la classe che mi descrive come è fatto l'oggetto e dico matricola lo leggo qua lo scrivo qui e qui e basta per cui questo è quello che si chiama il principio di incapsulamento che prevede che gli oggetti siano dei gusci e io possa interagire con questi gusci soltanto attraverso i metodi nonostante questo tutti i linguaggi di programmazione consentono un po' di scavalcare questo principio per cui invece di andare a scrivere p.stampa esattamente con la stessa annotazione posso andare a scrivere p.matricola uguale 987654 in generale non vado a fare così cioè non vado a creare l'oggetto e poi andare a segnare tutti gli attributi ma il modo corretto coerente con un approccio orientato agli oggetti è quello di utilizzare un costruttore quindi avrei potuto utilizzarlo già prima ok solo per farvi vedere che ho le due possibilità è quello di inizializzare un oggetto utilizzando il costruttore e non accedendo direttamente ai suoi attributi questa qui è quella che si chiama una violazione del principio di incapsulamento lo posso fare quando vedremo la visibilità in realtà vediamo che usando opportunamente nomi public e private questa cosa qua la posso impedire però se non faccio attenzione alla visibilità il linguaggio me lo consente tornando all'aliasing avendo P e Q che puntano lo stesso oggetto avendo fatto questa modifica ovviamente se lo faccio qui no ma se lo faccio qua avendo fatto questo questa assegnazione avendo modificato la matricola di P in realtà ho modificato anche la matricola di Q perché P e Q puntano lo stesso oggetto quindi se io vado a fare Q punto print non print scusate ma stampa in realtà stampa lo stesso oggetto P il cui nel frattempo ho cambiato la matricola da qui vedete che risultato è quello ok ho usato il riferimento P per accedere all'oggetto e modificare la sua matricola e poi uso il riferimento Q che punta esattamente allo stesso oggetto per accedere e chiamare il metodo di stampa ok tutto chiaro a questo punto domanda in chat e se qui invece di chiamare l'attributo matricola matra l'avessi chiamato matricola cosa sarebbe significato matricola uguale a matricola la risposta dopo una breve pausa diciamo che faccio 35 facciamo 10 minuti così finiamo neanche tanto tardi che è giusto per sgranchirvi sia qui che a casa e quindi a 45 riprendiamo perfetto allora domanda che avevo fatto prima di interrompere la lezione ma scusate persone se io ho matricola qui che senso ha scrivere matricola uguale a matricola ovviamente non ha senso in effetti il compilatore mi dice guarda che the assignment has no effect perché se segno una variabile a se stessa sostanzialmente non cambia nulla ok perché perché ovviamente abbiamo l'ambiguità tra matricola che è questo parametro e matricola che è questo attributo come faccio a risolvere l'ambiguità beh direi che avete già visto le lezioni e quindi l'ambiguità si risolve andando a mettere un this punto this che cos'è è sostanzialmente un riferimento predefinito che è l'oggetto corrente di cui sto eseguendo il metodo quindi invece di scrivere l'oggetto corrente di cui sto eseguendo al momento il metodo saggiamente i progettisti di java hanno deciso di chiamarlo semplicemente this anche perché con gli underscore non l'avrebbero mai scritto ma l'avrebbero scritto in camel case ok allora this in realtà è un nome che ho utilizzato non soltanto in java ma in tanti altri tanti linguaggi ed è automaticamente definito ogni volta che entro in un metodo qui sono in un costruttore ma anche in stampa io qui in stampa ho scritto semplicemente matricola perché implicitamente quando mi trovo dentro un metodo i nomi vengono cercati non soltanto tra le variabili e i parametri ma anche tra gli attributi quindi quando chiamo il metodo stampa su un oggetto e faccio riferimento a matricola ecco matricola in questo caso fa riferimento all'attributo dell'oggetto su cui ho chiamato stampa avrei potuto in maniera del tutto equivalente mettere un dis. ok anche qui dis. il dis lo posso mettere in java perché mi semplifica la vita evito di scrivere quei cinque caratteri in più se lo scrivo va bene lo stesso ci sono stili di programmazione che vanno un po' oltre le convenzioni di codice che richiedono di mettere il dis ogni volta che faccio riferimento a un attributo perché perché in questo modo so che quello è un attributo e non è una variabile ora se ho un metodo in due linee o in una linea come in questo caso è evidente che quello non è un parametro o non è una variabile se ho metodi di 10 20 30 righe e che magari non mi stanno in una schermata allora è un po' più difficile capire se sto facendo riferimento a un attributo oppure una variabile oppure un parametro e quindi mettere dis immediatamente mi evidenzia questa differenza però è veramente una vostra scelta personale in altri linguaggi invece il dis è obbligatorio tanto per dirvi ad esempio javascript in javascript devo mettere per forza dis altrimenti non risolvo l'ambiguità il nome dis di nuovo non è universale nei linguaggi di programmazione ad oggetti ad esempio in python si utilizza self ok però esiste sempre questa idea di quel particolare riferimento che è l'oggetto di cui sto eseguendo il metodo allora domanda semplice c'è qualche volta in cui l'uso di dis è errato no cioè è errato quando voglio fare riferimento a una variabile metto dis ovviamente però in questo caso questo è l'attributo e questo è il parametro in generale vale la regola che in caso di ambiguità un identificatore si riferisce alla dichiarazione più prossima quindi matricola il parametro è quello che è definito più vicino al punto in cui lo sto utilizzando e quindi in quel caso lì matricola senza ulteriore qualificazione è il parametro se voglio fare riferimento all'attributo devo utilizzare dis ok per cui per capire che assegno il parametro il valore del parametro all'attributo devo per forza utilizzare dis altrimenti assegnerei il parametro a se stesso e quindi per risolvere questa ambiguità è chiaro che il dis risolve tutto se volete utilizzarlo sempre va benissimo se lo volete utilizzare solo quando è necessario per risolvere questa ambiguità di nuovo è corretto c'è una domanda sull'aliasing di prima perché questo deve stare qui sotto e non può stare qua sopra perché allora io vedete nell'esempio di prima ho spostato questa riga dal prima di creare il nuovo oggetto puntato da P a subito dopo perché in questo modo i due effettivamente puntano lo stesso oggetto e quindi quando aggiorno P aggiorno anche Q cioè aggiorno in realtà l'oggetto puntato da P che è lo stesso oggetto puntato da Q se io avessi messo quassù lo stesso tipo di assegnazione Q avrebbe puntato all'oggetto creato con questo new persona qui passo in alto quindi vedete che io qui ho fatto tre volte le chiamate al metodo persona scusate al metodo al costruttore di persona quindi qui ho creato P1 con indirizzo 0 quello che volete qui ho creato P2 e qui sotto ho creato P3 quindi ho creato tre oggetti in memoria il riferimento a P1 me lo sono perso qui quando ho sovrascritto P con il riferimento a P3 ok il riferimento a P2 me lo sono perso qui perché gli ho messo null vi faccio notare che null in java si scrive minuscolo tutto minuscolo ok in C era tutto maiuscolo perché era una costante in java è tutto minuscolo perché è una parola chiave a questo punto ho detto Q che in quel momento era nullo uguale a P vuol dire che ho copiato dentro Q il riferimento che era dentro P e quindi ho copiato l'indirizzo dell'oggetto P3 l'ho copiato dentro Q e quindi a questo punto Q e P contengono lo stesso indirizzo quindi fanno riferimento allo stesso oggetto stessa area di memoria domanda in java è possibile inserire i dati dall'utente sì ma non è semplice ok i dati non sono l'input output non è non è banale se volete leggere qualcosa dal vostro dal vostro utente il modo tutto sommato più semplice di farlo è definendo una stringa S uguale java punto java x scusate punto swing punto j option pane punto show input dialog nome due punti spero l'avevo scritto correttamente quindi quando lancio questo codice mi esce fuori scusate ma me l'ho aperto sull'altra finestra ecco qua mi esce fuori questa finestrella di input in cui vedete nome è quello che ho messo qua l'etichetta e qui posso andare a scrivere quello che voglio il risultato viene messo dentro la stringa S attenzione che questo metodo legge delle stringhe quindi nel caso bisogna poi convertirlo in un intero ci arriviamo poi allora commento è possibile fare scanf sicuramente è possibile fare l'equivalente di una scanf ma non è non è il modo standard in cui si fanno queste operazioni in in java esiste l'equivalente della scanf ma non è non è il modo normale di fare queste operazioni quindi giusto per riepilogare cosa abbiamo detto prima variabili di due grosse categorie tipi primitivi e allora si comportano esattamente come si comportavano in C classi la classe definisce un nuovo tipo e quando uso questo nuovo tipo di fatto sto dichiarando un riferimento il riferimento è vagamente simile a un puntatore per cui il riferimento contiene l'indirizzo dell'oggetto ovviamente l'oggetto lo devo creare non mi basta dire persona p per creare l'oggetto devo andare esplicitamente a fare un'operazione di new a questo punto uso quel riferimento per poter accedere all'oggetto normalmente cosa voglio fare quando devo accedere ad un oggetto normalmente l'operazione che faccio quando ho un oggetto un riferimento ad un oggetto è chiamare un metodo e per fare questa chiamata vado ad utilizzare il punto questo permette di dereferenziare il riferimento accedere all'oggetto e chiamare il metodo su quell'oggetto la grossa differenza tra i tipi primitivi e gli oggetti è che nel caso dei tipi primitivi il valore dell'intero della floating point quello che volete è memorizzato nello stack dove ci sono tutte le variabili locali nel caso dei riferimenti il riferimento viene memorizzato nello stack assieme a tutte le variabili locali l'oggetto vero e proprio quei tre attributi che abbiamo definito per persona non stanno nello stack ma stanno nella memoria dinamica quindi di fatto quando faccio una new viene fatta una malloc ed è in memoria dinamica quindi tutti gli oggetti sono creati all'interno della memoria dinamica il grosso vantaggio rispetto a C nell'usare la memoria dinamica è che non mi devo preoccupare di diallocare perché ci pensa la Java Virtual Machine quindi faccio le malloc ma le free le farà la Java Virtual Machine secondo i propri comodi domanda potevo scrivere newpersona.stampa allora sì volendo allora avrei potuto scrivere per creare un oggetto e chiamare direttamente un metodo senza memorizzare il riferimento in nessun post avrei potuto fare aperta tonda new persona faccio aperta chiusa tonda perché è più semplice punto stampa ricordatevi che dopo il nome della classe c'è sempre ci sono sempre le tonde sia che non passiate alcun parametro sia che vogliate passare i parametri ma ovviamente se passate dei parametri le tonde servono perché sono i parametri un po' come la chiamata con la sintassi analoga alla chiamata del metodo ovviamente cosa succede quando faccio questa chiamata viene creato un oggetto il risultato quindi questa coppia di tonde avrà come risultato un riferimento a persona il punto dereferenza a quel riferimento a persona e chiama stampa dopodiché quel riferimento viene perso e quindi l'oggetto è candidato ad essere rilasciato c'è un modulo che si chiama garbage collector che si trova che è parte della Java Virtual Machine che è proprio quello che si occupa periodicamente di andare a spazzolare la memoria e capire che cosa può essere rilasciato e quindi fare questa operazione di rilascio domanda il valore di ritorno di un costruttore è riferimento all'oggetto creato allora non esattamente il valore di ritorno l'abbiamo visto nella notazione qua vedete che qui quando ho un costruttore non ho nessun valore nessun tipo di ritorno in realtà cosa succede? il risultato della new è un riferimento a un oggetto prima di restituire il valore l'operatore new chiama il costruttore all'interno del costruttore ovviamente il this è l'oggetto che è appena stato allocato e che dovrà essere inizializzato dal costruttore quindi il costruttore di per sé non ha nessun valore di ritorno è un metodo allora volendo potremmo mettere void perché in realtà new alloca memoria e chiama il costruttore quindi il costruttore di per sé non restituisce nulla ma semplicemente inizializza e poi la new che prende l'oggetto inizializzato e lo restituisce ok spero di aver risposto a buona parte delle domande torniamo un attimo sull'esempio e vi faccio vedere qualche dettaglio in più questo questa l'uso dei costruttori risolve sostanzialmente il problema dell'inizializzazione degli oggetti ok siamo sicuri che dandogli il costruttore se anche chi fa l'operazione di new è sbadato e si dimentica di passare i parametri se noi definiamo un costruttore senza parametri quello viene chiamato e quindi l'oggetto è in uno stato diciamo consistente per cui l'idea è che in Java io voglio evitare di usare riferimenti ma anche tipi primitivi non inizializzati che è uno dei problemi principali in Java scusate in Java in qualunque linguaggio di programmazione ma anche in C ci dimentichiamo inizializzare una variabile è pasticcio incredibile per cui in in Java l'idea è che tutte le variabili prima di essere utilizzate devono essere inizializzate per cui se mi trovo all'interno di un metodo come in questo caso se vado a definire una variabile j e poi provo a fare un system out intel n j ma anche banalmente un i uguale i più j il compilatore vedete mi sottolinea la j in questi due casi perché perché mi dice che la variabile locale j potrebbe non essere inizializzata may not have been inizialized attenzione anche se usa il may di cortesia di fatto quello è un errore e quindi il compilatore non vi genera il bycode quindi è impossibile in java utilizzare una variabile senza inizializzarla prima stessa cosa se io vado a definire persona r e poi provo a fare r. tampa anche qui mi evidenzia r mi dice la variabile locale r potrebbe non essere stata inizializzata quindi tornando al discorso che facevamo prima l'idea di usare variabili non inizializzate è un problema in qualunque linguaggio in java vi viene segnalato un errore di compilazione quindi non riuscite a farlo per il discorso di identificare i problemi prima possibile in modo da risolverli in una maniera più semplice e meno costosa possibile c'è però un caso particolare se vi ricordate quando abbiamo costruito all'inizio la classe persona non avevamo messo il costruttore e quindi non avevamo inizializzato in alcun modo gli attributi degli oggetti creati tuttavia il programma aveva funzionato ci aveva stampato zero l'inizializzazione delle variabili locali non viene fatta quindi il compilatore ci dice guarda che la devi inizializzare tu se non la inizializzi non te la lascia usare ok proprio impossibile da utilizzare infatti ci dà un errore ci dice che non è stato inizializzato quando invece ho degli attributi all'interno di un oggetto automaticamente anche se io non vado a mettere questo costruttore questi attributi vengono inizializzati quindi c'è un'inizializzazione automatica degli attributi con zero oppure null quindi i valori numerici vengono inizializzati con zero quindi la nostra matricola se ricordate all'inizio stampava zero mentre invece le stringhe sono inizializzate con null perché questo differente approccio perché sostanzialmente all'interno di un metodo il compilatore riesce facilmente a capire se una variabile è stata inizializzata o no la sequenza di istruzioni è lineare se tra un certo punto in cui dichiaro la variabile e un altro punto in cui la uso in tutti i possibili percorsi non c'è un'istruzione che assegna un valore per la variabile la variabile non è inizializzata per una classe e quindi gli oggetti di questa classe come fa il compilatore a essere sicuro che dal momento in cui ho creato al momento in cui ad esempio vado a fare la stampa non ci sia stato qualcuno che ha inizializzato gli attributi direttamente chiamando un altro metodo eccetera ok dal momento della costruzione al momento in cui viene chiamato un metodo tipo stampa ok può succedere qualunque cosa non sono fatti uno dopo l'altro il metodo stampa verrà chiamato prima o poi ma non dipende dalla classe dipende da chi utilizza la classe e quindi in questo caso il compilatore non può andare a dirvi con certezza che una variabile un attributo in questo caso è stato o meno inizializzato per cui per evitare questo problema inizializza lui automaticamente tutti gli attributi con zero o con null qui se io in questo costruttore vado a eliminare queste righe il risultato della stampa di quello se faccio un pipus punto stampa qua su in realtà il pipus stampa ce l'ho già in fondo scusatemi questo qui che avevamo aggiunto prima per rispondere alla domanda quindi creo un oggetto senza passare nulla quindi non inizializzo gli attributi e vado a vedere cosa mi stampa scusate commento questo vedete zero e null allora qui c'è un piccolo problemino perché io ho lo stesso risultato così non inizializzando nulla oppure andando a inizializzare qui con zero virgola null la stringa con questi quattro caratteri vedete che ho esattamente lo stesso output ma sono due cose diverse ovvero uno è causato dal fatto che quando cerco di concatenare una stringa con un riferimento che è nullo mi mette null l'altro è perché ho chiamato proprio la mia persona null null è anche vero che non sono tante le persone che si chiamano null null e quindi è ovvio che se vediamo scritto null è perché ci siamo dimenticati di inizializzare la variabile ok però c'è questa diciamo anomalia di comportamento ovviamente perché è stato fatto così perché può succedere di voler concatenare delle stringhe e cosa succede? se io cercassi di utilizzare le regole normali avrei un errore per ridurre il numero di errori quando anche concateno qualcosa semplicemente accetto che ci sia una stringa non completa non corretta cosa succede se io cerco di utilizzare un riferimento nullo? succede sostanzialmente questo immaginiamo di definire una persona s uguale null questo è corretto ho dichiarato il riferimento s di tipo persona e li ho dato come valore null perfetto il compilatore non mi può più dire che se io faccio s.stampa s non è inizializzato l'ho inizializzato a null ma non l'ho inizializzato in effetti Eclipse fa un'analisi un pochettino più fine e mi dà un warning non un errore il warning mi dice guarda che c'è qualcosa di strano che probabilmente è legato a un errore tuo il warning dice la variabile s non può essere altro che null in questo punto e quindi non funziona sappilo se io vado a insistere e nonostante il warning eseguo ecco che ottengo uno dei messaggi che vedrete più spesso durante questo corso che è null pointer exception tra l'altro il fatto che in Java non ci siano puntatori è smentito da questo tipo di messaggio ok pensavano ancora di chiamare i puntatori quando l'hanno definita questa classe poi l'hanno chiamata i reference però in teoria dovrebbe essere null reference exception ma cosa è successo? allora il compilatore abbiamo detto evita di farci usare variabili non inizializzate io lì non inizializzata la stessa cosa sarebbe potuta succedere se avessi utilizzato un attributo di un oggetto non inizializzato esplicitamente in quel caso è il compilatore che implicitamente assegna null quindi il nome o il cognome definiti dentro dentro persona se io non li inizializzo esplicitamente saranno inizializzati a null automaticamente se perché ho sbagliato quindi è un errore mio di programmatore perché sono arrivato in un certo punto una variabile avrebbe dovuto puntare a un oggetto in realtà punta a null e quindi in quel caso passati tutti i controlli possibili del nostro compilatore interviene chi? la virtual machine la Java virtual machine nel momento in cui io cerco di dereferenziare come faccio qui sotto un riferimento che è nullo mi blocca mi blocca e lancia questo errore che è l'eccezione di null pointer exception che vuol dire guarda mi dispiace hai cercato di dereferenziare un puntatore nullo il programma finisce qui attenzione l'equivalente c è un errore di sistema di violazione di segmentazione e programma che va in crash qui mi dice guarda mi dispiace ma non ti posso far proseguire sappi che per tua informazione il problema si è verificato alla linea 61 del file esempio.java in particolare nel metodo main della classe esempio infatti la linea 61 è quella in cui abbiamo messo questo s.stampa quindi rispetto a il programma ha eseguito un'istruzione non valida c'è stata una violazione della segmentazione o quello che il sistema operativo che utilizzate vi dice la virtual machine ci dà un messaggio molto pulito il programma termina comunque perché ovviamente non saprebbe cosa fare però il messaggio è decisamente più facile da capire soprattutto è più facile andare a capire dov'è il problema io ho un null pointer exception se cerco di dereferenziare un riferimento che è nullo quindi la regola è se ho un null pointer exception vado a vedere la linea in cui questo è avvenuto in questa linea cerco un punto il problema è se ho più di un punto qui devo trovare quello giusto ma se ho un unico punto significa che quello che sta a sinistra è null e quindi da lì vado a ritroso a capire perché quell'esse non è stato inizializzato in questo caso il compilatore me l'aveva pure detto guarda che è nullo hai sbagliato prima in altri casi magari s è un attributo che è stato inizializzato automaticamente a null il costruttore non l'ho scritto male o non so per quali altri motivi è restato nullo e cerco di utilizzarlo e quindi mi dà un null pointer exception domanda java consente di inizializzare le variabili in ogni posizione del codice sì l'avete visto nell'esempio in c normalmente le variabili devono essere dichiarate nel blocco nell'inizio nelle prime righe della funzione ok in realtà le ultime varianti iso consentono anche inizializzazioni dopo ma diciamo che il c diciamo quello classico prevede che le variabili vengano dichiarate all'inizio in java io posso andare a dichiarare variabili vedete in qualunque punto come anche qua la domanda prosegue conviene comunque inizializzare all'inizio tutte in modo da avere una pulizia quindi dichiarazioni delle variabili e poi istruzioni o no allora in java normalmente ecco pratica comune andare a dichiarare le variabili vicino al punto in cui vengono utilizzate quindi non tutte in cima anche perché se mi ritrovo un metodo che ha più di 10-15 righe e quindi non mi ci sta nello schermo è comodo vedere la dichiarazione della variabile lì vicino e così sono sicuro che sta dichiarata del tipo corretto tendenzialmente non ci sono problemi di memoria più o meno utilizzate in maniera più o meno efficiente ok non cambia tanto troppo per semplicità l'idea è che ho tutto lì assieme se ci pensate è anche l'idea della classe nella classe io ho i attributi e i metodi cioè ho i dati e le funzioni che operano su quei dati tutte nello stesso modulo l'idea di avere tutto assieme è insomma facile da tenere sott'occhio in un tutt'uno tra l'altro rispetto a altri linguaggi vi menziono ad esempio cppu dove solitamente si suddivide una parte di dichiarazione della classe il cppu è una sintassi di nuovo molto simile a questa ma il cppu è molto più legato al c e quindi in cppu cosa faccio dichiaro la struttura della classe in un file header e l'implementazione dei metodi in un file cpp quindi in un file in cppu invece di mettere public stampa e tutto il contenuto andrei a mettere public stampa punte virgola e poi andrei a mettere il contenuto del metodo stampa in un file cpp scusate separato in questo caso ci porta ad avere un pezzo delle dichiarazioni quindi gli attributi sono dichiarati nel file .h e le implementazioni dei metodi in un file diverso pro e contro ma ragionevolmente non ho tutto sott'occhio invece avendo un unico file come in questo caso è un po' più facile e ho sostanzialmente tutto nello stesso file quello che riguarda la mia classe allora abbiamo parlato dell'accesso agli attributi e abbiamo anche detto che tendenzialmente non si dovrebbe fare non si dovrebbe fare proprio perché io non so bene se ho libero accesso agli attributi di un oggetto chi è che me li ha modificati non ho più stato sotto sott'occhio come dicevamo un attimo fa per questo motivo ve lo anticipo ma poi ci ritorneremo nella prossima lezione spesso gli attributi sono dichiarati come privati cosa vuol dire privato vuol dire che quell'attributo può essere visto soltanto da questa classe e qui è il compilatore che mi impedisce di fare l'operazione che avevamo fatto prima adesso torno nell'esempio quell'operazione che avevo fatto prima su vostra richiesta p.matricola non lo posso più fare perché mi dice il campo the field persona dot matricola is dot visible l'ho nascosto ho rispettato quello che è il principio dell'incapsulamento l'incapsulamento mi dice gli oggetti devono incapsulare i dati ed esporre all'esterno soltanto metodi è un principio non è una legge quindi ci sono alcune varianti ok e alcune eccezioni consentite a volte consigliate però in linea di principio questo è quello che facciamo normalmente gli attributi tutti privati non visibili e l'accesso avviene soltanto tramite dei metodi quindi questo non lo faccio e voi direte sì ma se io volessi avere magari non scrivere perché abbiamo visto che è la scrittura che mi scompagina le idee perché qualcuno modifica un mio attributo e io non so chi è stato e perché ma se io volessi leggerlo beh se io volessi leggere la matricola magari senza dover stampare tutto lo posso fare se ho la necessità di rendere la matricola leggibile dall'esterno quello che posso fare è andare a mettere un metodo che mi permette di leggere la matricola quindi public int leggi matricola aperta e chiusa tonda e return matricola per cui qui se io volessi andare a mettere int m uguale p punto leggi matricola funziona altra cosa che posso fare ovviamente scrivere la matricola quindi potrei andare a mettere in persona un metodo scrivi matricola o modifica matricola quindi public void modifica matricola int nuova matricola e quindi dis punto matricola uguale nuova matricola piccola parentesi il completamente automatico del codice funziona con control spazio quindi se voi iniziate a scrivere il nome di una variabile lunga fate control spazio automaticamente Eclipse vi dà il suggerimento sperabilmente uno o tutti i nomi che sono compatibili con quello che avete iniziato a scrivere quindi nel mio esempio posso invece di fare quest'operazione p punto matricola uguale posso scrivere p punto modifica matricola e metto 987654 e quindi il risultato è lo stesso qual è la differenza sostanziale tra questi due approcci lasciare l'accesso libero all'attributo rispetto a mettere un metodo qualche idea sì ad esempio certo io qui potrei andare a dire if matricola minore di zero system out quinteln n tavolo credit e ritorno oppure posso convertire i valori quindi se la matricola fosse una stringa che deve iniziare per s prendo un intero e gli aggiungo la s in cima stessa cosa per la lettura immaginiamo che la matricola che questa non sia una persona ma sia sì diciamo che è una persona di cui ho la data di nascita e voglio l'età il metodo leggi l'età che cosa fa prende la data odierna va a vedere la data di nascita fa la differenza e mi dà l'età ovviamente andare a memorizzare l'età in una classe come in database è una cosa un po' stupida perché altrimenti ogni anno devo ricordarmi di andare ad aggiornare il dato e quindi normalmente si memorizza la data di nascita quindi capite che ho molta più flessibilità risposta perché magari facciamo la classe e poi verrà utilizzata qualcun altro esattamente l'idea è se io metto gli attributi privati e soltanto alcuni metodi sto dando in mano a chi utilizzerà la mia classe una serie di operazioni che possono essere svolte e io che sviluppo la classe garantisco che svolgendo quelle operazioni e non facendo altre cose strane la mia classe è corretta e consistente quindi questo mi dà un po' di controllo ovviamente la chiamata funzione costa voi avete fatto tutti i corsi di calcolatori calcolatori elettronici eh? ah in parallelo scusatemi avete ragione quindi lo state seguendo non avete ancora fatto ovviamente il passaggio di parametri ma sostanzialmente l'idea è che quando io faccio una chiamata prendo tutti i parametri li butto sullo stack faccio una chiamata quindi salto all'istruzione del del metodo e finito cosa faccio? ripulisco i parametri dallo stack assieme alle variabili locali di quel metodo e ritorno quindi buttare un po' di roba sullo stack mettere le variabili locali di quel di quel metodo ammesso che ci sia fare un salto e ritornare ovviamente è un po' più costoso che semplicemente andare a fare una dereferenzazione di memoria ok? pacifico quindi le chiamate di per sé sono leggermente più costose è anche vero che buona parte dei compilatori delle virtual machine odierne tendenzialmente chiamate di questo tipo tendono a sostituirle con la versione inline e quindi di fatto non viene fatta la chiamata ma viene preso il codice e viene buttato di dentro quindi se il compilatore se in realtà il modulo GIT della virtual machine è abbastanza furbo non ho particolari problemi di prestazione è ovvio che un'ottimizzazione può essere fatta soltanto se ho tutte le classi e se ho alcune condizioni particolari ma non è questo un corso di compilatori quindi non entriamo nei dettagli per cui in generale in astratto usare dei metodi di questo tipo penalizza un po' le prestazioni per cui in alcuni casi specifici posso evitarlo e posso preferire accedere direttamente all'attributo in generale la mia raccomandazione è le ottimizzazioni lasciatele in fondo è meglio avere un programma che funziona ma un po' lentamente piuttosto avere un programma che non funziona ma molto velocemente ok? sembra banale ma è così quindi le scorciatoie si fanno in fondo se sono veramente necessarie altrimenti cerchiamo di usare i principi tipo incapsulamento che ci preservano da una serie di errori comuni domanda in C usavamo delle funzioni per nascondere wrapper per nascondere delle funzioni che invece che non erano nel file.h i metodi privati funzionano grossomodo lo stesso modo sì mettere un metodo o anche soprattutto un attributo privato vuol dire che quello non è visibile dall'esterno pur essendoci e facendo parte della classe qui io ho messo privato soltanto sugli attributi ma ovviamente privato può funzionare anche sui metodi domanda dovrebbe esserci nuova matricola dentro l'IF sì ottimo quindi vuol dire che anche a casa siete svegli non state mangiando quindi qui era nuova matricola giusto grazie grazie della segnalazione domanda ma questi controlli qua non potrebbero essere fatti nel file esempio.java sì potrebbero essere fatti ma il punto è io sviluppo la classe persona e poi la do a Davide che mi ha fatto la domanda che deve usarla lui lo sa che deve fare i controlli se ne ricorderà soprattutto se la classe la deve usare Davide Giovanni Nicola Maria Elisabetta Sara eccetera tutti dovranno andare a aggiungere i controlli è necessario che tutti se ne ricordino che lo sappiano e che lo facciano bene se invece il controllo lo metto lì dentro io che ho fatto la classe garantisco a tutti che i controlli verranno fatti come dovrebbero essere fatti ipotizzando ovviamente che io sappia questo facendo perché se non fosse vero comunque non utilizzereste mai la mia classe quindi il problema non si pone però se chi ha costruito la classe sa che cosa sta facendo inserisce già i controlli evitando a tutti di farli di ricordarsi di farli di farli in modo corretto quindi il grosso vantaggio è questo perché io che ho costruito la classe so come funziona e so che cosa posso fare che controlli devo fare che conversioni eccetera allora stavo pensando cosa volevo dirvi ancora oggi negli ultimi minuti torno un attimo ai costruttori avevamo parlato di distruttori allora i distruttori non ci sono perché tendenzialmente come vi dicevo non è garantito se e quando la virtual machine andrà a deallocare quindi a distruggere un oggetto esiste un modo di andare a suggerire ma è un suggerimento non è un ordine al nostro sistema di Java Virtual Machine di fare una pulizia della memoria e viene fatto tramite system punto gc gc sta per garbage collect raccogli la spazzatura ripeto questo è un puro e timido suggerimento alla Java Virtual Machine che potrebbe tranquillamente ignorarlo almeno così c'è scritto nelle specifiche della Java Virtual Machine sì ma pulisce tutto perché non è preferenziale certo pulisce tutto quello che non è più raggiungibile non è che butta via tutti i vostri oggetti no pulisce gli oggetti che effettivamente non sono più utilizzati non sono più raggiungibili e quindi non potendo andare a definire direttamente voi il valore di un riferimento non potete più raggiungere in alcun modo allora domanda ho un errore alla linea modifica matricola e su leggi matricola l'errore è probabilmente dovuto al fatto che hai modificato persona ma non l'hai salvato una cosa che vi consiglio di fare spesso e volentieri è andare a fare un save all salvando tutti i file i riferimenti incrociati vengono trovati finché voi non salvate un file questo non viene compilato e quindi in esempio non vede ad esempio il metodo leggi quindi ricordatevi di salvare spesso anche perché se per caso allora Eclipse è abbastanza stabile però se va in crash Eclipse vi perdete tutto quello che avete fatto se state lavorando a casa su un esercizio ci perdete una mezza nottata in più se vi succede all'esame è un pochettino più spiacevole ok quindi salvate spesso e volentieri almeno le cose stanno sul disco soprattutto rischiate se andate avanti a scrivere nei file senza salvare rischiate di scrivere delle cose che sono incoerenti l'una con l'altra o di avere degli errori che in realtà non esistono quindi ogni volta che finite di fare una modifica salvate in questo modo il compilatore è anche in grado di fare tutti i controlli di coerenza e segnalarvi che c'è un errore di nuovo vi segnalo che se voi fate commettete un errore da qualche parte ad esempio dimenticate un punto di virgola qui vedete che qui compare il sottolineato rosso e c'è il bollino sul margine ok se io salvo questo file comunque ignorando le notizie di eclipse compare anche qui nel package explorer il bollino rosso compare su persona sul package su src e sul progetto e quindi a fronte di un errore tu si accendono tutte le lampadine tipo albero di natale su tutta la vostra gerarchia il che vuol dire che dovreste riuscire a vederlo ok il che vuol dire che io mi aspetto che all'esame voi mi consegnate del codice che sia corretto almeno sintatticamente lo potete verificare direttamente voi se c'è un errore e non riuscite a correggerlo al volo perché magari è un'istruzione complessa una possibile soluzione è quella di andare a commentare qualche linea quindi se io commento questa non funziona sempre però se avete 30 secondi per sottomettere il progetto all'esame e avete un errore provate a commentare magari di sistema di cose ci sarà un piccolo errore però quantomeno il programma è corretto è ovvio che se andate a commentare un po' a caso rischiate che poi non funzioni nulla per cui se io ad esempio vado a commentare tutto il metodo e salvo mi salta fuori un errore dall'altra parte cioè in esempio perché non c'è più il metodo modifica matripa domanda esiste un debugger? sì esiste un debugger quindi voi quando iniziate ripristino il codice corretto finisco di rispondere alla domanda quando iniziate a eseguire un programma quello che potete fare è invece di run as debug as e quindi parte il debugger c'è un errore da qualche parte attenzione dopo l'indicazione del metodo c'è un'apertagraffa quindi dichiarate la funzione direttamente domanda è possibile accedere al grabbatch collector per recuperare i dati? allora no una grossa differenza rispetto a C è che l'accesso alla memoria dinamica è mediato sempre e comunque da un riferimento e voi non potete fare riferimento più più uno o più uno per andare all'oggetto successivo ok? non esiste aritmetica dei puntatori in Java quindi avete riferimento punto all'oggetto e quello avete quindi non potete andare a recuperare i dati persi ovviamente quello che potete fare è magari lo vediamo la prossima volta con degli attributi statici mantenere una collezione di oggetti e quindi quando ho bisogno di un nuovo oggetto di un certo tipo invece di crearlo vado a restituire uno che già esiste però è un qualcosa che dovete farvi voi mantenendo la lista di oggetti e andando a pescare in questa lista è possibile scegliere da che punto far partire il debugger certamente io posso andare apro qui se voglio iniziare a fare il debug qua posso scusate con un clic destro fare un toggle breakpoint e metto un breakpoint su una certa riga quindi quando parte il debugger mi si ferma attenzione che magari ce ne sono altri quindi si ferma anche prima domanda vedremo in questo corso come si fanno interfacce grafiche allora sì alla fine del corso ci sarà una piccola parte legata all'interfacce grafiche però ovviamente non è la parte principale quindi sarà molto molto sintetica però sì diciamo che alla fine interfacce grafiche diciamo molto semplici dovresti essere in grado di di farlo altra domanda perché il main deve stare dentro una classe ecco bella domanda non c'è un motivo vero e proprio però il linguaggio è stato definito per cui l'unica cosa che posso dichiarare è una classe quindi non posso andare a dichiarare una funzione assistante perché le funzioni come oggetti assistanti non metodi di classi non sono previsti nella sintassi java e quindi ovviamente questo è il risultato ci sono altri linguaggi anche basati sulle java return machine come codine in cui posso andare a dichiarare una funzione a sé stante senza mettere dentro la classe però in java questa è la sintassi quindi non posso non posso sgravare c'è una domanda su return this però direi che abbiamo fatto tardi eventualmente se mi fate le domande su slack non ho capito il ritondismo magari elaborando un po' di più volentieri io vi rispondo ovviamente prima della prossima lezione prima di concludere cari amici vicini e lontani ricordatevi di iscrivervi a slack perché è il posto in cui ci sono domande e risposte e ci sono anche gli avvisi quindi fatelo in giornata non è necessario farlo adesso comunque per il momento c'è poco però più avanti ci saranno un sacco di domande e risposte quindi è il posto dove andare a cercare prima di tutto domani verrà pubblicata una nuova lezione pre-registrata da vedere in previsione della lezione di lunedì prossimo arrivederci e buon pomeriggio e buon pomeriggio Grazie.